Ciao, sono Nicole Co-Cartigiana e conduco papà ai fornelli. Insieme a loro vi aspetto nella mia cucina per imparare tutti, grandi e piccini, a cucinare tante ricette buone e golose. Lasciate lievitare la fantasia, mescolate con un sorriso e spolverate con un pizzico di magia e voilà! Cucinare non è mai stato così semplice e divertente! Grazie per la visione!